Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi del Sabre RGB Pro Wireless, un nuovo mouse di Corsair che, come sapete, Corsair è sinonimo di qualità. Ora, prima di parlarvi del mouse, vi premetto che io provengo da questo, quindi sempre un mouse Corsair da gaming, quindi una bella bestia. Io, diciamo, preferisco Corsair come prodotti perché, diciamo, sono di alta qualità e venduti al giusto prezzo. Il mouse di cui voglio parlarvi oggi, che è questo qui, è un mouse da gaming, però naturalmente, a differenza di questo mouse, siamo su un altro pianeta, perché questo mouse è sì da gaming, ma è rivolto alla semplicità, cioè non è molto elaborato come questo, non ha tanti tasti, non è grosso come mouse. Diciamo, è un mouse semplice, però rivolto al gaming. Vanta fino a 26.000 dpi, che ovviamente possono essere, diciamo, ridotti o incrementati tramite questo tastino posto qui, quindi potete passare da una configurazione all'altra in qualsiasi momento. Sul lato sinistro del mouse, come vedete, ci sono solo due tasti, che solitamente sono i tasti per andare avanti e indietro di pagine, quindi, diciamo, non ci sono altri tasti, vedete, non c'è nulla, oltre ovviamente questo tastino per i dpi. E poi abbiamo la rotella, lo scroller, che è leggermente ruvido e, diciamo, è a, come posso dire, è a tratti, vedete? Cioè, è fatta in modo che lo scroller avviene in modo preciso, cioè, è a tratti. Non è quella classica rotella che scorre all'infinito, quindi questa è veramente una cosa da elogiare, perché se lavorate al computer e dovete scrollare le pagine, questa rotella è davvero il massimo. Il mouse vanta un corpo in materiale ruvido, come potete udire. È ruvido, al tatto, ed è fatto in modo che, come questo mouse, anche se questo è ricoperto di un materiale differente, se, diciamo, lo utilizzate per tanto tempo, non si formano quegli aloni fastidiosi dovuti al sudore. E quindi, diciamo, non tende ad usurarsi rapidamente nel corso del tempo. Mentre, per quanto riguarda alcune finiture, tipo questa qui o questa laterale, è liscia e, diciamo, come vedete, lucida, non è ruvida. Però, sono solo cose estetiche, quindi non vanno ad intaccare l'ergonomia, la comodità di avere il materiale ruvido al tatto. Per lo meno, io preferisco averlo ruvido, al tatto, che liscio, perché ho avuto tanti mouse lisci che, dopo pochi giorni, già erano rovinati per il sudore, dovuto, appunto, all'eccessivo utilizzo del mouse. Come vedete, le dimensioni del mouse sono contenute. Non sono piccolissime, ma nemmeno esagerate. Però, per la mia mano, va piuttosto bene. Ovviamente, rispetto a questo mouse, siamo su un altro pianeta, come ho detto. Qui, diciamo, l'impugnatura è tutt'altra cosa. Però, è molto comodo per lavorare e giocare. Diciamo, è un mouse rivolto per lo più a coloro che cercano semplicità e non, diciamo, tanti tasti o qualcosa di elaborato. Come vedete, c'è il logo Corsair che si accende e cambia colore di continuo. Potete tenere sia il colore dinamico che fisso tramite l'apposito software. Il mouse è wireless. Tramite questo dongle potete utilizzarlo fin da subito, non dovete configurarlo. E si ricarica con il cavo USB che trovate nella confezione. Basterà collegarlo qui e, diciamo, collegarlo al computer per ricaricarlo. Quindi avete la possibilità di utilizzarlo mentre carica e anche in modalità wireless. Come detto, il mouse arriva fino a 26.000 dpi, si alimenta con una batteria interna ricaricabile, può essere spento e acceso in qualsiasi momento tramite questo pulsantino posto alla base. E, diciamo, è un mouse piuttosto accessibile in termini di prezzo. Rivolto, come detto, a coloro che cercano un mouse da gaming che sia semplice ma allo stesso tempo di alta qualità.